Mugelli e Chiechi sono appiedati per problemi fisici, entrano bordo e Mediana e Bucaletti là davanti con il recupero di Scarpelli in porta dopo le tre gare disputate da Valoriani. Confermato il 4-2-3-1 contro un atteggiamento speculare in terra emiliana, in quello che è peraltro il primo confronto assoluto tra le due realtà. Sul cross da sinistra gira in porta Iukic chiedendo un rigore per l'intervento, forse con il braccio di Boccaccini per il giro di gara si prosegue. Peccato che poco dopo ci sia il gentile omaggio della retroguardia azzurra con una misura sbagliata di retropassaggio di Bini. Noselli in pressing vince il rimpallo su Scarpelli, l'attaccante tiene palla in campo e deposita in rete il vantaggio. La risposta arriva con Cherneso che fa tutto da solo, si accentra in percussione orizzontale, il destro piazzato è però fiacco. Poco dopo il quarto d'ora ecco Cattabriga che commette fallo di mano in aria sul contrasto con Bindi. Stavolta è indicato il dischetto sul quale Iukic con il brivido della deraviazione di Monari trasforma per il pari 1-1. Metà frazione, controbalzo di Gima col destro, palla bloccata da Scarpelli. Poi le misure sono prese sino al finale di tempo, corner di Cortese gira nello specchio in sforbiciata a Noselli. La difesa azzurra si rifugia in angolo. La ripresa vede la Sangio con il vento a favore ma sull'assist di Bucaletti questo non è un vantaggio per Iukic che non controlla il lancio, l'azione sfuma. Entrano Mugelli e Chiechi, quest'ultimo indirizzo in porta al primo pallone giocato, deviazione per l'angolo, 60 secondi ed è Tonelli a fornire assist involontario a Iukic talmente sorpreso da regalo da spedire alle stelle la girata. Un minuto ancora e punizione dal lato corto dell'aria, ancora Chiechi a cercare il vertice opposto, Monari con la mano di richiamo manda in angolo. Non è ancora preciso, prima del cambio con Camigli Iukic di testa è la fine di un forcing importante che non ha portato frutti ai colori azzurri, anche se poi alla mezz'ora Kernezzo lancia in campo aperto Nannini sino al limite dell'aria. Si oppone Boccacini ancora per l'angolo. Attenzione però al pallone da fermo di Cortese che imbecca un evanescente della Rocca fino a quel momento, incornata a scendere, pallone su parte superiore della traversa. Arriva al finale, Slalom di Bini in supporto offensivo, ancora non si va però oltre il tiro dalla bandierina a seguito di un'azione insistita con ultima conclusione. Nel recupero della Rocca si fa giustamente cacciare per un fallo da dietro accompagnato poi da spinta evidente su Mugelli, subito dopo è gioco fermo. Il Marzocco prende un punto e raccoglie soprattutto gli applausi del proprio pubblico. Mercoledì al Fedini il Castelvetro. Grazie.